ciao a tutti nuovo prodotto sonoff piccolino ma che magari potrebbe risolvere anche qualche grossa esigenza il nuovo sonoff micro zigbee usb l'avevamo già provato in versione wifi e quindi non zigbee l'hanno praticamente rifatto ma per tutti quelli che hanno l'esigenza di associarlo ad un protocollo zigbee chiaramente per usarlo ci va un hub che può essere un hub qualsiasi può essere tranquillamente la yoast può essere l'enspanel pro oppure lo zigbee bridge pro oppure gli zigbee dongle versione p o versione e ma anche dispositivi esterni non di sonoff quindi tutti gli amazon eco plus dalla seconda generazione in poi o magari lab zigbee di philips you o magari se avete altri hub che sono per smart things eccetera insomma richiede comunque un hub perché ricordo essendo zigbee non è lui che si collega direttamente al wifi ma sarà lab che si collega al wifi quindi un unico dispositivo un unico indirizzo ip a discapito di alcune cose che magari a me spesso non piacciono dei dispositivi zigbee come la risposta normalmente almeno quasi sempre più lenta dei dispositivi wifi però un protocollo che funziona molto bene create una rete zigbee insomma tutti i vantaggi del caso questo c'era solo in versione wifi adesso c'è anche in versione zigbee che cos'è è semplicemente un interruttore usb perché si attacca usb a diciamo la sorgente d'alimentazione e esce con usb a femmina è compatibile con il fast charge quindi se lo usiamo per gestire magari delle ricariche programmate possiamo sfruttare una sorgente fast charge possiamo anche usarlo per interrompere una linea dati perché comunque permette anche il passaggio di dati però con protocollo usb 2.0 adesso non perderei più tempo ve lo faccio vedere facciamo due prove vi faccio capire come si può usare come si può programmare ma prima di andare avanti col video mi raccomando qui sotto iscriviti ci vanno due secondi non costa nulla e mi dareste un grosso supporto per far crescere il canale eccolo qui nuovo sonoff micro usb però questa volta versione zigbee cosa ci può interessare delle caratteristiche tecniche sicuramente l'alimentazione 5.22 volt 4.60 ampere massimi oppure l'uscita l'uscita è al massimo a 36 watt ma solo se usiamo un'alimentazione con un quick charge 3.0 ed eccolo qua molto molto piccolo arriva ricoperto nella parte bianca lucida carina elegante tappino sulla usb in uscita pulsantino due piccoli led ingresso type a stesse caratteristiche le abbiamo anche qui null'altro di particolare se non il qr code col numero di serie e quindi basta semplicemente aggiungerlo tramite un ab chiaramente zigbee ok lo alimentiamo vediamo che succede si accende un led rosso fisso e un led verde lampeggiante apriamo l'app e we link entriamo dentro il mio ab zigbee che è lo zb bridge pro qui abbiamo tutti i dispositivi proviamo ad aggiungerne uno vediamo se lo trova viene trovato un dispositivo andiamo avanti vedete che mi ha trovato lo zigbee micro nelle istruzioni diceva di aggiungerlo con la modalità aggiunta dispositivo e scannerizzare il qr code ma l'abbiamo trovato anche direttamente tramite lab entriamo nel dispositivo semplicemente abbiamo la possibilità di accenderlo o spegnerlo vediamo come risponde visivamente quando lo accendiamo si illumina di rosso quando lo spegniamo si spegne il led rosso vediamo se funziona anche pulsante si vedete che risponde anche via app quindi semplicissimo vediamo se riusciamo a percepire il click di un releo se tutto elettronico no è assolutamente una gestione a stato solido quindi completamente elettronica non abbiamo parti meccaniche all'interno del dispositivo qui sotto abbiamo gli orari tutte le programmazioni del caso ripetibili il timer quindi l'attivazione con un timer oppure un timer ciclico che si ripete più volte andiamo nelle impostazioni siamo attualmente alla versione ultima è stato appena prodotto abbiamo una disturbo che in questo caso viene segnato come forte posizione condivisione possibilità di creare un gruppo di dispositivi registri delle attivazioni funzionalità sperimentali abbiamo la modalità turbo che migliora la forza del segnale proviamo ad attivarla il disturbo arriva meno 19 db se vado a disattivare questa modalità turbo vedete che passa a 30 di disturbo stato l'accensione se appena alimentato deve essere acceso spento o esattamente come era prima di disalimentarlo abbiamo l'inching dove possiamo scegliere l'auto spento o l'automatico adesso la traduzione non è il massimo questo attiva il dispositivo automaticamente dopo il tempo di inching questo lo spegne inching che arriva come al solito a 59 minuti e 59 secondi produttore modello id nome null'altro quindi niente di particolare se non il fatto che è un controllo usb però gestito tramite un hub zigbee per chi ama creare una rete zigbee nella nella propria casa o ufficio o fabbrica quello che sia questa versione del micro usb zigbee mancava cosa altro posso farvi vedere posso farvi vedere la costruzione delle scene costruiamo una scena qualsiasi vediamo se troviamo lo zigbee micro lui può essere usato come criterio di partenza nel senso quando viene acceso quando viene spento oppure impostando un qualsiasi altro dispositivo possiamo usarlo come criterio secondario che viene acceso spento o che viene invertito lo stato al verificarsi di una condizione possiamo usarlo per un sacco di applicazioni per programmare ad esempio la ricarica di dispositivi o semplicemente per gestire un'uscita che può essere l'alimentazione magari di una piccola striscia led col connettore usb o magari di una luce usb come questa quindi attivarla o disattivarla direttamente con i comandi smart per testarlo chiamiamogli il nome perché poi dopo il comando vocale fa casino lo chiamiamo semplicemente micro vedete che qui abbiamo il micro aggiunto di recente dall'app di amazon possiamo quindi attivarlo adesso questo è un led touch bisogna poi accenderlo a mano o disattivarlo funzioneranno anche tutti i comandi vocali anche in versione timer perché non ve lo faccio mai vedere ma una delle cose più semplici è la gestione di un timer tramite il comando vocale spegni micro tra cinque secondi vedete intanto sono passati da quando ha dato la conferma vocale e controlla perfettamente il nostro dispositivo che viaggia attraverso la rete zigbee e non connesso direttamente come dispositivo wifi quindi occupando anche un indirizzo ip nella rete e questo è il prodottino attualmente si trova solo sul sito del produttore quindi it ad punto cc vi lascio il link in descrizione costa 12.90 dollari arriverà presto anche in italia sicuramente lo troveremo poi dal nostro fornitore per l'italia expert for house cosa ce ne facciamo di questo aggegino credo vi possano venire in mente o possiate riconoscere di avere l'esigenza in svariati scenari perché possiamo ad esempio utilizzarlo per gestire la ricarica programmata di un dispositivo tipo che ne so un tablet a parete dove non vogliamo lasciarlo in carica h24 ma magari gli diamo solo quelle tre ore di carica al giorno ma questo è solo un esempio per farvi capire cosa può fare possiamo collegarlo a delle strip led alimentate direttamente col 5 volte quindi con lui possiamo accendere spegnere insomma tutto quello che ha un attacco usb e che ha bisogno di una sorgente del genere per essere alimentato o per funzionare lo possiamo gestire con un dispositivo smart che questa volta comandiamo attraverso la rete zigbee prodotto semplice video veloce se vi è piaciuto comunque un bel like mi raccomando non vi dimenticate noi ci vediamo prossimo video prossima diretta del giovedì sera o se passate con negozio torino vi offre un caffè grazie ciao da massitattoli